Il 38% della credibilità di un oratore sta nella voce, ci dice Albert Merabian. E quando chiedo che cosa è piaciuto o non è piaciuto di un altro presentatore, sempre qualcosa rispetto all'aspetto vocale compare nella lista. La voce è quindi fondamentale. Questo non vuol dire che dobbiamo studiare per diventare dei cantanti professionisti o imparare delle tecniche vocali o di respirazione col diaframma. È però importante essere in controllo della propria voce per mantenere la credibilità, per dare enfasi ai nostri discorsi e evitare errori comuni che affliggono diversi oratori. Se parliamo di voce ovviamente parliamo di volume, parliamo di tonalità, parliamo di ritmo. Partiamo dal volume innanzitutto, che può essere basso, medio oppure alto. Un volume basso...